Stanco dei capelli da cacatua! Nuovo sgargano Carnier Eructis Hydra Peach al concentrato attivo di pece liberi dal muschio anche con l'umidità i capelli sono radice quadrata di tre mezzi volte più lisci e sotto volte più forti i capelli lisci brillano di nuova forza nuovo Eructis Hydra Peach prendimi cura di me Carnier!